Va bene, niente, Petro Nilli è comparso. Ho detto che non potevamo interrompere perché dobbiamo, purtroppo vi chiediamo... Sento abbastanza rapido l'intervento. No, no, adesso dobbiamo ridurre gli interventi veramente a 5 minuti l'uno perché dobbiamo poi, anche se il pranzo è qua vicino... Mi dispiace ma è stata una decisione dell'organizzazione, non sono colpevole. Buongiorno a tutti, io sono Sergio Petro Nilli e vi parlerò appunto di innovazione dal punto di vista del laboratorio ProtoLab che fa supporto alle piccole e medie imprese. Sono un ricercatore dell'Enea, conoscete tutti l'Enea, è un ente pubblico di ricerca e faccio parte dell'unità di trasferimento tecnologico dell'Enea di Bologna e sono responsabile del laboratorio ProtoLab. Che è un laboratorio che fa parte della rete di alta tecnologia, della piattaforma ICT e design dell'Emilia Romagna. Il nostro laboratorio si occupa essenzialmente di svolgere attività di ricerca e trasferimento tecnologico e innovazione alle piccole e medie imprese nell'ambito delle tecnologie CAD CAM, in particolare modellazione 3D, stampa 3D, ingegneria inversa, su settori trasversali, quindi meccanica, biobinicale, beni culturali. Ultimamente siamo molto mirati sul settore del Made in Italy. Innanzitutto un aspetto importante, è molto più difficile fare innovazione sulle piccole e medie imprese, soprattutto sulle piccolissime imprese. Quindi se noi pensiamo che in Italia abbiamo il 39% di aziende che ha da 1 a 9 dipendenti, per cui anche la nostra esperienza, quando siamo venuti a contatto con realtà già strutturate, quindi con un numero di dipendenti più alto, alla fine i soggetti che fanno innovazione dentro ci sono quasi sempre. La difficoltà è farla proprio nelle piccole imprese. Queste considerazioni che vi farò vedere sono relative, soprattutto come dicevo prima, al Made in Italy. Parliamo di innovation blocker secondo quello che è la nostra esperienza. Quindi noi, diciamo, come laboratorio, lavoriamo molto a supporto delle piccole imprese. Abbiamo detto che la dimensione è un fattore critico per fare innovazione. Innanzitutto, nella piccola impresa manca una figura professionale in grado di individuare quali sono le innovazioni sul mercato. Interessante è che, se voi pensate, per esempio, vi porto l'esempio del distretto Arofo di Arezzo, sono 1300 aziende e 14.000 addetti. Dimensione media è 5,7 dipendenti. Ecco, in aziende di questo tipo c'è il titolare, quando va bene un responsabile di produzione, un responsabile commerciale, il resto fa solo produzione. L'imprenditore deve gestire il quotidiano, quindi l'imprenditore non ha tempo per fare innovazione. Questa è una realtà, purtroppo, che se voi vi confrontate con le piccole e medie imprese, con queste micro imprese dovete fare i conti. L'altro aspetto, le fiere di settore, passaparola, le riviste di settore, non sono mai sufficienti. Quindi, anche questo è un altro aspetto. Una cosa che ci è capitata diverse volte, le aggressive politiche di marketing dei fornitori di tecnologia, che sono quelli poi che dovrebbero consentire con queste tecnologie di fare innovazione. Spesso abbiamo trovato in aziende, per esempio abbiamo trovato un'azienda che faceva 2D, taglio laser, che voleva fare prodotti innovativi usando il 3D. E si era dotata di un sistema 5 assi. Bene, è rimasto lì imballato. Perché? Perché in realtà non aveva investito sulle competenze del personale. Quindi non c'era più la persona che era in grado di fare un percorso utensile per un sistema 5 assi. Questo era solo per farvi un esempio. Gli altri aspetti che sono già stati enunciati dai precedenti relatori, che è l'aspetto di finanziamento. Chiaramente sono aziende che sono scarsamente capitalizzate, e quindi hanno ridotto la possibilità di ricorrere al credito, quindi anche avendo idee innovative fanno fatica poi a metterle in pratica perché non sono in grado di dotarsi delle tecnologie o dei software adeguati per farlo. E poi c'è l'aspetto burocratico che veramente a queste aziende gli tronca assolutamente le gambe, anche ai più volenterosi. Spesso anche chi accede ai finanziamenti in genere deve fare i conti con le lungaggini temporali, per cui un imprenditore chiaramente deve avere costi certi, tempi certi. Spesso nei progetti finanziati non è così. E soprattutto un altro aspetto importante, la piccola azienda che vuole fare innovazione deve gestire il transitorio. Allora cosa vuol dire? Vuol dire che per esempio per le aziende con le quali noi abbiamo collaborato, l'azienda che vuole passare dal 2D al 3D ha sicuramente dai 6-8 mesi di transizione. Per chi poi vuole iniziare a fare il 3D, minimo un anno. Ecco, in questo periodo di transizione cosa succede all'interno di una piccola azienda? Noi per esempio in molti progetti che abbiamo fatto di trasferimento tecnologico e innovazione in queste aziende, l'imprenditore ci ha detto sì bene, io sono disposto perché la regione, l'Emilia Romagna ci metteva i soldi, noi ci mettevamo il know-how, le idee le mettevano gli imprenditori, però io i tecnici non te li mando durante l'orario di lavoro, te li mando se vuoi dalle 6 alle 9. Quindi vabbè, ci siamo adeguati, quindi un sacco di progetti li abbiamo fatti in questo modo. Vi faccio velocemente vedere alcuni esempi molto pratici. Innanzitutto per l'imprenditore per fare innovazione deve essere evidente l'innovazione di prodotto e di processo. Cioè noi sappiamo che l'attività ricerca può dare un risultato di business oppure non lo può dare, se no non sarebbe ricerca. L'imprenditore ha bisogno di qualcosa che sia molto più vicino alla ricerca industriale. Vi faccio un esempio, esigenza di una grossa azienda, che era un SPA, che aveva l'esigenza di popolare una polisuperficie con degli oggetti. Questo dal punto di vista matematico non ha soluzione. È un problema matematico che non ha soluzione. Ecco, vedete, in questo caso queste sono delle scarpe con sopra delle superfici molto complesse che andavano popolate con degli oggetti. In questo caso gli oggetti erano delle pietre o dei strass. Vi faccio vedere altri esempi. Ecco, diciamo, in questo caso noi abbiamo sviluppato il software, quindi chiaramente sull'idea dell'azienda e da questa attività poi è nato anche uno spin-off. Vi volevo far notare una cosa che chiaramente essendo progetti finanziati poi la ricerca viene diffusa anche alle altre aziende. Quindi abbiamo selezionato 15 aziende che facessero questo percorso e su 15 aziende abbiamo trovato 11 aziende che facevano incassatura. Cioè prendevano le pietre e le incassavano sugli oggetti. Ci siamo domandati perché. Banalissimo. Gli incassatori cinesi erano più competitivi. Un incassatore di un'azienda dell'Emilia Romagna prende 1,30-1,50 pietra un incassatore cinese 40 centesimi. È chiaro che se io non faccio questo tipo di innovazione l'azienda è costretta a chiudere. Pensate sull'anello di 100 pietra sono già un gap di 100 euro. Altro esempio l'aspetto di industrializzare la componente di quanto abbiamo? No, un minuto. Un minuto. Vabbè. Industrializzare diciamo le produzioni con forte componente di manualità utilizzando il reverse engineering. Adesso questo quindi lo salto. Altro aspetto è la mass-cazoni station quindi la possibilità di realizzare i prodotti customizzati però in maniera industriale che è il contrario della produzione industriale se ci pensate. Però grazie alle tecnologie CAD CAM si riesce a fare questo. Vi faccio un esempio che abbiamo fatto con un'azienda un anno e mezzo fa. Questi bracciali hanno una struttura che si chiama Voronoi quindi una struttura di tassellazione dove però sono prodotti singolarmente per il singolo cliente. la configurazione dipende da una data del cliente quindi la data di matrimonio la nascita del primo figlio eccetera. Sono oggetti chiaramente dell'alto di gamma. Per concludere gli innovation booster innanzitutto è necessario che chi fa innovazione si sporchi le mani cioè vada dentro le aziende. Questa è una cosa fondamentale perché sennò i due mondi chi fa ricerca chi fa innovazione non va nelle aziende è assolutamente improduttivo. Come si fa a entrare nelle aziende? Spesso molte aziende ci hanno chiesto di no ci hanno detto di no coinvolgimento dell'associazione di categoria utilizzo dei social media sto vedendo poco utilizzato questo strumento che in realtà è uno strumento di comunicazione fortissimo utilizzo integrato delle tecnologie che favoriscono l'innovazione quindi l'esistenza di soggetti non interessati e altro aspetto è le reti d'impresa quindi fondamentale la rete d'impresa però rete d'impresa non solo verticali ma anche orizzontali quindi aziende che in realtà sono concorrenti che però fanno la loro rete d'impresa. Faccio un esempio dall'attività che abbiamo fatto è nata un'associazione si chiama Medea modellisti design dell'Arezzo e questi modellisti pur essendo concorrenti tra di loro si mettono insieme per poter poi trovare soluzioni innovative e per ultimo è nata anche un'associazione Shintec perché chiaramente forte di questa esperienza è nata anche questa associazione a Bologna sempre di 54 artigiani e piccole e medie imprese delle mila Romagna che si sono messi in rete tra di loro per cui l'imprenditore che aveva per esempio più disponibilità finanziarie ha fatto poi un centro servizi che fa servizi poi agli altri e pensate che da questo è nato un progetto di e-commerce tra soggetti che in realtà sono concorrenti sul mercato questo progetto si chiama viaemilia750.it è un progetto di e-commerce quindi è B2C B2C e Emilia perché chiaramente la via Emilia va da Ravenna fino a Piacenza 750 perché è il titolo dell'oro quindi quando si fa innovazione effettivamente l'innovazione vera le aziende poi riescono anche a superare certi tabù di concorrenza di mutua concorrenza ok mi dispiace di essere stato così veloce ma questi sono i miei riferimenti per la serie di Bologna c'è la mail invece per la serie di Casaccia c'è il mio collega Alessio Bertini che si occupa appunto di queste tecnologie vi ringrazio grazie allora di nuovo contro ordine grazie a tutti